Quasi cent'anni di nuova vita per la necropoli di Porto all'Isola Sacra. Negli anni venti del Novecento veniva in luce la necropoli di Porto all'Isola Sacra, una delle necropoli monumentali più estese e importanti del Mediterraneo, la sua importanza è data dai suoi monumenti funerari in gran parte decorati con stucchi, affreschi, mosaici e in qualche caso anche statue, per non parlare del cospicuo numero di sarcofaggi in marmo che essa ha restituito. La scoperta della necropoli fu casuale. Avvenne durante i lavori di bonifica che interessavano l'Isola Sacra negli anni venti del Novecento, condotti per conto del governo dall'Opera Nazionale Combattenti. La scoperta ebbe una vasta eco sui media dell'epoca, i giornali e i primi cinegiornali dell'Istituto Luce pubblicano le prime notizie e le prime immagini, nel solco della propaganda del regime fascista, figura 1. Nel 1928 Guido Calza pubblica la prima notizia scientifica relativa agli scavi nel 1928. Lavori agricoli di grande importanza ed estensione, compiuti dall'Opera Nazionale Combattenti, hanno messo in luce un vasto sepolcreto pagano nell'Isola Sacra tra Ostia e Fiumicino di cui mi è gradito dar. Notizia. Interessante e inattesa rivelazione, già te l'Isola Sacra ha ben lasciato poche tracce dietro di sé. Nella storia. Nel 1932 lo stesso Guido Calza pubblica un piccolo librino, di non più di 30 pagine, il sepolcreto del porto di Roma, Isola Sacra. Un cinegiornale luce del novembre 1930, recuperabile su YouTube sul canale dell'Istituto Luce, dal titolo A. Ostia antica importante scoperta archeologica mostra in una sequenza di poco più di due minuti. Monumenti funerari già portati in luce, restaurati e musealizzati, un preziosissimo documento video che ci mostra la necropoli nei primi tempi della sua scoperta, quando era ancora in corso di scavo. Oggi l'area archeologica della necropoli di Isola Sacra è una suggestiva passeggiata nel verde, all'ombra dei pini al cospetto dei grandi monumenti funerari, si tratta di tombe architettoniche, a camera, destinate a nuclei familiari e a collegia, vale a dire ad associazioni di lavoratori, vi sono poi altre tombe, tombe in cassoni in muratura, sepolture singole entro anfore o entro sarcofagi in terracotta. Principalmente lungo la via Flabia Severiana, della quale il basolato stradale è stato portato in luce nel T. Utte si dispongono. Tratto all'interno dell'area archeologica e che era larga addirittura 10,50 m. Questa strada era. Fondamentale nel collegare via Terra Portus il grande porto di Roma imperiale con Ostia. Dal punto di vista della storia dell'arte antica, la necropoli di Porto all'Isola Sacra accoglie e ha restituito. Una straordinaria concentrazione di capolavori, per quanto riguarda la statuaria, la statua di Julia Procula. Oggi al Museo Ostiense raffigurata come Igea, divinità della salute, che è vissuta nell'I secolo di. C. Punto e virgola e. Mosaico della tomba 43 raffigurante due navi che si avvicinano a un faro e l'iscrizione in caratteri greci. Ode Pausilipos che significa qui cessa ogni affanno, ancora in situ nella necropoli, il grande mosaico. Della tomba della mietitura, anche esso in situ, che prende il nome dai quadretti a mosaico che raffigurano. Varie scene relative alla coltivazione del grano, disposti su un lato del pavimento, mentre sull'altro lato è. Raffigurata una scena tratta dal mito di Alcesti Admeto, il re Admeto sta per morire, ma Apollo gli. Consente di sottrarsi alla morte, purché qualcun altro muoie al posto suo. La moglie Alcesti, quale supremo. Atto d'amore si offre di morire per lui. Per questo suo atto di estremo sacrificio e di affetto, Alcesti viene. Premiata dagli dei e torna a vivere con lo sposo amato. Questo mito è stato narrato, tra gli altri, in una tragedia di Euripide ed è evidentemente strettamente connesso col tema della morte e dell'aldilà, figura 2. Nei depositi ostiensi sono conservati alcuni affreschi provenienti dalle tombe della necropoli di Isola Sacra. Tra questi le pitture dalla tomba 19, esposte a Ostia nel 2019 nel corso dell'iniziativa eppur si espone, e che raffigurano in un pannello un giovane cavaliere e nell'altro due coni oggi ritratti nell'atto della Dextrarum. Iunctio, ovvero l'unione in matrimonio. Gli affreschi si riferiscono a un nucleo familiare costituito dai due genitori e dal figlio, conosciamo il nome e l'età sia del padre, Caio Torquato Novello, che morì a 76 anni, che del figlio, Lucio Torquato Novello, che morì invece giovanissimo, a 23 anni, figura 3. Infine non si possono tralasciare i sarcofagi, molti dei quali sono esposti a Ostia Antica sotto il cosiddetto portico dei sarcofagi presso l'Antiquarium, mentre alcuni sono nel Museo Ostiense, come ad esempio il sarcofago con scene di caccia dalla tomba 34 della necropoli, Fig. 4. Attualmente per la necropoli sono in corso di progettazione interventi che, oltre ad avere finalità conservative e di rifunzionalizzazione del sistema di controllo delle acque di falda, prevedono anche la realizzazione di una struttura di copertura della tomba della mietitura e di quelle adiacenti. Si prevede inoltre la costruzione di un padiglione destinato all'accoglienza e alla comunicazione multimediale, così da ampliare e migliorare l'esperienza di visita del pubblico. Fig. 1. La necropoli di Porto durante i primi scavi negli anni 20 a 30 del Novecento Archivio Fotografico Parco Archeologico di Ostia Antica, nome File, necropoli Isola Sacra B1755. Fig. 2. Tomba della Mietitura Nome File, tomba della Mietitura. Fig. 3. Affreschi dalla tomba 19 Nome File, tomba 19 eppur si espone. Fig. 4. Sarcofago dalla tomba 34 Nome File, sarcofago caccia La tomba 34 Isola Sacra. Il testo e le foto, visibili in alcune app. Sono di Marina Loblundo. Conversione in audio per i povedenti. Di Teodoro Parente. Link dell'Istituto Luce Sula. Necropoli di Porto. Descritto nell'articolo. HTTPS, 2 punti, slash slash, io o tu, punto b e slash mot 1 l b g trattino di l i.